Secondo le statistiche di YouTube solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale Mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora, grazie Porca puttana sei difficile Porca puttana sei difficile Non puoi più rischiare un cazzo non puoi più rischiare un cazzo Ti ricordi a che numero di safe dobbiamo iniziare? Numero numero no però quando la vedo glielo dico Va bene Li facciamo sti punti raga Gente al nitrotrom non avvicinarti Cazzo oggi non muore di cazzo nessuno Ho capito? Dico oggi non muore nessuno No Non l'ho capito sincero 98% Sincero non l'ho capita Ma che cazzo mi ha Ma che cazzo fa? Twitch ci ha regalato 19 abbonamenti Si ma signori io la bustina mi arriva martedì raga Mi arriva martedì raga Sei serio? Sei serio? Vediamo sono curioso di vedere se dovessimo fare un'altra buona partita dove andiamo Mi ci butto Non lo fare mai non lo fare mai più non lo fare mai più Non lo fare non lo fare sono troppo incazzati non lo fare 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 non venire Ho provato pensavo che erano due erano tre Non lo faccio più Non lo faccio più I'm back I'm back Ok nice Ho praticamente tutto Si ma non ti incastrare contro i pali Eh adesso cominciano a far sbrattare le partite raga Mangerebbe solo verdure per un anno per mezzo milioni di euro me le infilo pure nel culo Andiamo Dove c'è di vai Due verdure nel culo eh nel senso Finchè non è un pisello va bene Andiamo per mezzo milioni di euro Porca merda Ah ecco dove sono sono a prendere il cazzo i miei Che pazienza che pazienza che dai vediamo se muore anche l'ultimo Eccolo la Perfetto E' una stronzata stare qua Perfetto Perfetto Aspetta ma non sa Muoio La madonna di dio Brutta raga Ranco ugualmente Easy Finita Bravo Razor La prima è andata quindi Sbannate Tortellino Bill Non ha fatto nulla Andiamo subito a vedere User Vediamo User Ok Ma è andato il 2 agosto da serena Come faccio a vedere Intanto andiamo Leva davanti qua Ok adesso vedo tutto Ok Però non banna a caso dove hai fatto qualcosa per forza No sono sicuro che non banna a caso Ma momentaneamente lo riammetto io Abbonato da sei mesi bannato da sere Bisognerebbe approfondire un attimo questa cosa Razor Ci pensi tu poi dopo in privato? Posso chiederlo? Sì giusto per capire un attimino Sì infatti no perché gli ultimi messaggi non sembravano pesanti Tortellino Bill si chiama? Ok Desce a girarmi in XDS? Eh sì Arrivo intanto Faccio pure partire intanto la seconda missione Ciao Dave the Box Ah ma sicuramente Ho un incontro con un ragazzo alle 16 Eeeh In realtà devo fare una roba di lavoro dopo E poi forse riesco a passare Intanto cerchiamo di Di portare giù Devo Se killo ragazzi 300 abietti con questo eroe Mi danno 80 v-back gratis Vorrei capire perché sei stato blindato tortellino Aspetta cantare vittoria tortellino Quando sei rebanna banna Voglio capire come mai Consigliere Ricordi che mi ha portato il Bulbasaur Ho fatto cadere la scatola Che sta avendo sotto una macchina Il manovra sotto i miei occhi Porca troia consigliere E qua dobbiamo fargli i complimenti alla Pami Eeeh Oh razzo ma io c'ho qua il coso eh Gli attivanti Eeeh Com'è possibile? Ma com'è possibile? Ma che cosa cazzo fai? Eeeh Salve fai fack tutto bene F*** lo insegue Lo insegue è aggressivo è aggressivo Complimenti bro Mi manderà un po' a fanculo C'ha ragione Guarda Firdy Alessandro Ucca Due mesi Lei tratta fumetti anche? E ho tratto cazzi! No non tratto fumetti Alessandro Cazzo 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 Buongiorno De Maso Io io De Maso buongiorno Sbannate Tortellino Bill Non ha fatto nulla Che cazzo vuoi? Sbannate Tortellino Bill Adesso vediamo chi è Tortellino Bill Un momento eh Intanto vi ho messo Un momento raga eh Ueeh Dani 25 Io ho 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 Insomma i Dani 25 mesi Su Siamo a 25 Siamo a 25 Dani Vieni qua che ti faccio Fatti questo Non è vero Non è vero Non è vero che non è morto Bro devi venire Siamo dentro in otto Siamo dentro in otto Oh Cristo la Madonna Ma non avevo l'impulso Cazzo la puttana di merda Merda non riesco più a vincere A satanati Però signori Diamante 2 Iiii Easy Così